Radio Italia, sono Musica Italiana, Laura Pausini bastava e adesso ci siamo noi, noi che vogliamo cantare, voi ascoltatori di Radio Italia, sono Musica Italiana, che avete sempre desiderato avere un maestro di musica, un insegnante, perché io, almeno io, voi non lo so, ho un sogno, quello di andare al Festival di Sanremo, lo so stufa di fare le interviste, le fa la Paola Garo, le fa meglio di me, c'è lei, io voglio cantare! Oh, brava Paoletta, quindi seconda lezione di musica per... Aspetta, aspetta, abbiamo un maestro, Patrick, Patrick, no, un maestro, lui ci insegnerà, ecco. Allora, oggi parliamo di sinestesia, Paoletta. No, parliamo, io voglio cantare, parliamo. No, parliamo di sinestesia, sai cos'è la sinestesia? Sì, quella che si usa in sala operatoria. Quella è l'anestesia, no la sinestesia. La sinestesia. Sinestesia vuol dire sentire i colori con le orecchie e vedere i suoni con gli occhi, quindi come se le note di una canzone fossero accompagnate da immagini. Tu riesci a visualizzare delle cose quando senti una musica? Sì, sempre, come quando leggo i libri, ma io volevo cantare. Paolo, puoi abbassare la base, gentilmente? Allora, per esempio, se suoniamo un accordo, un fa maggiore, che immagini vedi? Cosa ti evoca? I panni che non ho tirato fuori dalla lavatrice stamattina perché l'ho dimenticato, non avevo tempo. Ma che immagini? Questo è d'accordo minore. Questo è minore, è triste. Triste. No, allora, i panni che non ho tirato fuori, tra l'altro non ho messo la chiappa colore, per cui c'erano dei colorati dentro col bianco, saranno una schifezza. Tu non hai la sinestesia, Paoletta. È ufficiale. Grave. Molto grave, molto grave. Senti, Patrick, tu mi hai stufato perché siamo qui a fare lezioni di canto, io voglio cantare, ho preparato una canzone, allora pronti, ascoltatori, a cantare insieme a me al mio tre. Patrick, accompagnaci al Bacchiara. Non lo so cos'è il do maggiore, non me l'hai insegnato, non lo so. Pronti tutti insieme? Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera. Non mi accompagni? Vai avanti, per piacere che hai nato la vita tutta tua. Ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba. Sei fresca come l'aria. Sì. Grazie, grazie. Allora adesso ho una domanda per Patrick. Dimmi, avrò creato un'immagine, una sinestesia che ti ho creato? Sì, 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 il baratro. Guarda, non c'è gusto. Io con quest'uomo veramente, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Grazie.